Ciao a tutti, vi parla Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo. Bene, in questa parte della trasmissione, anzi nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di quello che è il congresso mondiale delle regioni etniche che si terrà ad Anversa l'8, 9 e 10 giugno di quest'anno. Noi siamo ormai pronti per partire, mancano ancora alcune messe a punto, comunque praticamente ormai la delegazione italiana della federazione pagana sta per partire per Anversa. Io non ci sarò giovedì prossimo, giovedì prossimo chiaramente sarò solo ad Anversa e tornerò giovedì fra 15 giorni. Se mi sarà possibile, se riuscirò, vedrò di fare magari un collegamento internazionale, una telefonata dal congresso fino alla trasmissione di radiogamma 5. Vedremo se riuscirò a mettere a punto il sistema, però non contattici al 100% perché fra me e questo tipo di tecnologia c'è una grande distanza. Allora, nella trasmissione di questa serie invece volevo concludere il discorso di sospendere il dialogo interno. Sospendere il dialogo interno vi ricordo che è un elemento fondamentale della stregonaria ed è il primo passaggio che fa la persona, l'individuo, per cominciare ad ascoltare il mondo che non è il mondo della ragione, che non è il mondo della descrizione. Ed eravamo rimasti nell'ultima trasmissione in cui avevamo parlato del discorso dell'imperturbabilità, che è uno degli elementi che si raggiunge attraverso la sospensione del dialogo interno. Un altro elemento che ci porta alla sospensione del dialogo interno è l'astrazione. Che cos'è il concetto di astrazione e stregonaria? I fenomeni che ricevo del mondo mi impongono degli adattamenti, però lo fanno su un piano diverso dalla percezione del quotidiano della ragione. Per questo motivo non colgo o non ritengo degno della mia attenzione quanto viene modificato. In pratica l'astrazione è la capacità dell'individuo di vivere su più piani della percezione e su più piani di azione. Questa è una cosa che si sviluppa un po' alla volta. All'inizio sembra che tutte le cose che vengono fatte nel mondo siano per noi importanti e tutto sommato lo sono importanti. Però ad un certo punto, sospendendo il dialogo interno, l'individuo si accorge che il mondo è fatto a piani, cioè esistono tutta una serie di piani collegati chiaramente l'uno all'altro, ma non necessariamente egli deve intervenire su tutti i piani. Cioè praticamente esistono dei fenomeni del mondo che ci giungono e che non ci interessano assolutamente magari i fenomeni che fino a ieri ci coinvolgevano al 100%. Oggi invece lasciamo scorrere, cioè non hanno nessuna influenza su quello che sono le linee di tensione, su quella che è la percezione dell'uomo, su quella che è la costruzione del futuro. Pertanto l'astrazione non è tanto la negazione della realtà per vivere in un mondo astratto, ma è la capacità dell'individuo di riuscire a cogliere i fenomeni nella loro manifestazione e riuscire a vedere dove quei fenomeni vanno a parare. E vivendo su più piani della percezione arrivano ad influire sulle persone dei fenomeni che fino a ieri nemmeno gli interessavano. Per esempio il mondo che lo circonda, il mondo della pietas, il mondo delle cose che fino a ieri non lo interessavano, cioè magari fino a ieri si interessava di politica, oggi si accorge che i fiori che crescono in un prato hanno una importanza maggiore di quello che faceva prima. Cioè in pratica attraverso la sospensione del dialogo interno l'individuo blocca quella che è la sua descrizione e giunge a trasformare la realtà in più piani diversi. Questi più piani diversi gli permettono di scegliere dove ancorare la propria attenzione. Per esempio un individuo che riesce ad arrivare all'astrazione può ancorarsi la propria attenzione su una situazione quotidiana e farsi passare sopra la testa tutte le questioni politiche oppure può ancorarsi su un piano politico e farsi passare sopra la testa tutta un'altra serie di cose. La differenza tra ciò che fanno normalmente le persone che ignorano la realtà è che chi giunge all'astrazione lo fa volutamente. Cioè volutamente ancorò la mia attenzione. Perché se io ancoro la mia attenzione tu hai poco da gridare, tu hai poco di sollecitare la mia azione perché io la mia attenzione l'ho ancorata su un altro piano. Normalmente in stragonaria si ancora la propria attenzione sul corpo luminoso oppure sul sognare oppure su piani dove si è intoccabili. Però non sempre è possibile farlo perché ogni piano in realtà ogni piano della percezione è collegato l'uno all'altro. Per cui ciò che avviene su un piano viene ad influire anche sugli altri piani. Però l'importante è che noi riusciamo a capire questo, che non esiste soltanto il piano della ragione dove noi descriviamo i fenomeni ma esistono anche dei piani emotivi, dei piani emozionali, dei piani psichici sui quali i fenomeni si manifestano e sui quali noi possiamo giocare per spostare la nostra attenzione e fissarla su elementi diversi che non siano la semplice ragione. E guardate che normalmente avviene nelle persone, perché se voi fate un buon ragionamento le persone vi dicono sì con la testa ma poi se ne sbattono altamente o quel ragionamento non le coinvolgono? Semplicemente perché l'attenzione di quelle persone è ancorata su un piano diverso da quello sul quale voi state parlando. Solo che le persone lo fanno in maniera automatica, lo fanno in maniera inconsapevole e spesso la loro attenzione è ancorata su quel piano da forze esterne a loro. Mentre invece chi pratica stregoneria lo fa volutamente, cioè lo fa per scegliere dove ancorare la propria attenzione in base ai propri progetti e ai propri bisogni. Il problema è che quando viene modificato un piano su un piano percettivo diverso da quello quotidiano, il fenomeno si trasferisce nel quotidiano, ma non è possibile risalire, partendo dalla ragione e partendo dall'analisi, alla sua origine partendo dal quotidiano. Il fenomeno si presenta partendo da un contesto astratto e trascendente alla ragione. Se l'individuo non riesce a sospendere il dialogo interno riesce in casi particolari a produrre fenomeni in percezione alterata che si riversano nel suo quotidiano della ragione senza essere in grado di farvi fronte. È come se la realtà si ritorcesse sull'individuo che manifesta una volontà di manipolazione della realtà stessa. In pratica se non siete consapevoli che esistono molti piani su cui le persone possono agire, sentire e manifestare se stessi, vi trovate a dover subire dei fenomeni che nemmeno ve lo immaginavate, cioè nemmeno li pensavate, perché si producono su piani diversi da dove si è fissata la vostra attenzione. Per esempio se fissate la vostra attenzione sul piano lavorativo qualche fenomeno può arrivare per esempio sul piano affettivo, tanto per parlare di cose che sono comprensibili. Però anche dal punto di vista psichico si manifestano delle cose abbastanza importanti. Uno dei fenomeni, per esempio la depressione, che è una malattia di massa ormai, non è che si sviluppa consapevolmente rispetto a delle cause precise. È vero che la nostra ragione dice sono depresso o subisco questi fenomeni perché? Ed ha delle spiegazioni, ma non sono quelle le spiegazioni che hanno prodotto la depressione. La depressione nasce su piani diversi rispetto a quello della ragione e quando la depressione arriva a radicalizzarsi all'interno dell'individuo è tutto l'individuo che sta male anche sul piano della ragione, anche là dove non riesce a cogliere le cose che hanno prodotto la sua depressione. Perché la ragione, ricordate, giustifica le cose che si manifestano. Non è in grado di individuare il perché delle cose, il perché dei fenomeni, il perché delle trasformazioni soggettive. La ragione si limita solo a giustificare. Pertanto quando si manifesta una situazione di depressione, per esempio in una persona, in realtà la persona ha subito, manipolato, interiorizzato fenomeni e situazioni diverse fuori da quello che è il suo controllo della ragione. La ragione le ha ignorate, però queste si sono accumulate dentro la persona. E proprio perché la ragione le ha ignorate, queste hanno cominciato a lavorare all'interno della struttura sinapsica, all'interno della struttura neuronale, ne hanno ammazzato la struttura delle connessioni cerebrali. Pertanto, tutti i fenomeni che hanno prodotto la depressione in realtà erano fuori dal piano della ragione, erano fuori dal piano su cui la persona concentrava la sua attenzione. Che poi quella persona giustificasse sul piano della ragione i suoi problemi, le sue crie, le sue necessità, quello è un altro discorso. Ma quella è giustificazione della ragione. Non sono le cause che hanno prodotto lo stato di depressione. Indifferenza. Un altro stato che si raggiunge sospendendo il dialogo interno. Alcuni fenomeni giungono, ma li percepisco su piani che loro non mi possono influire o toccare. Si tratta di fenomeni relativi ad altre ragioni o ad altri mondi della percezione di cui non conosco né mi interessa il loro riflesso della quotidianità. L'atteggiamento indifferente può servire per non farsi coinvolgere e non far deviare la propria attenzione dai fenomeni realmente importanti e immediati che stanno agendo attorno a noi. C'è un altro discorso che deve essere fatto ed è relativo all'orror vacui. Cos'è l'orror vacui? È una cosa che viene sempre usata un po' come spauracchio, cioè l'orrore del niente, l'orrore del nulla, l'orrore del vuoto. L'orrore del vuoto mentale, la paura del nulla, è proprio dei monoteisti. Esaltare la ragione e la sua descrizione, salvo poi riempire la ragione di tutti quelli che sono i loro fantasmi, di tutto quello che è l'oscurantismo, di tutto quello che è le paure, di tutte quelle che sono le fobie, perché alla fin fine il monoteismo riempie la ragione di paure, di fobie, di traumi, cioè di tutto ciò che può annientare l'essere umano e la sua capacità di far salti verso il futuro, di vivere la vita, di appropriarsi delle condizioni della vita. Per cui è vero che i monoteisti parlano di ragione, ma come può esserci una ragione laddove alla base della ragione c'è l'illusione, c'è la fantasia erotica di un dio creatore con il quale la ragione si identifica. Non esiste nessuna ragione razionale per la quale debba esistere un dio creatore. Esiste solo una fantasia illusoria, esiste solo un'imposizione mentale attraverso la quale, una costrizione, un lavaggio del cervello, attraverso il quale i monoteisti impongono l'idea del dio creatore, del dio padrone e da lì cercano di far discendere, far dipendere tutte le emozioni dell'individuo per tutto il resto della vita. Però non esiste delle ragioni sufficienti o delle ragioni razionali o delle ragioni giustificative per le quali si possa concepire l'esistenza di un dio creatore. Non esiste assolutamente, è solo una pura e semplice fantasia, una fantasia di morte e di omicidio e basta. Ebbene, dato questo elemento tutto il resto diventa irrazionale, cioè tutto il resto diventa puro parto di fantasia, pura manifestazione di fobie soggettive, tutta manifestazione di manipolazione mentale indotta dall'esterno per funzioni diverse dall'individuo. E questo, questo orrore i monoteisti chiamano ragione, non è la ragione degli illuministi, non è la ragione di Kant o la ragione di Voltaire o come si è evoluto il concetto di ragione che è diverso. La ragione come base della scienza, come tentativo di spiegare i fenomeni, come base della ricerca che poi diventa ricerca scientifica, la ricerca del sapere, la ricerca della conoscenza come oggi la intendiamo. Proprio come quando, è proprio dei monoteisti esaltare la ragione e la sua descrizione, proprio come quando davano la caccia alle donne che si chiamavano streghe, proprio quando condennavano Galileo, proprio come quando bruciavano Giordano Bruno. La ragione, solo la ragione, la ragione come culturalmente descritta in quel momento, che difende se stessa da ogni modificazione, la ragione che attraverso le parole difende se stessa e la miseria culturale che ha fissato. Si chiama oscurantismo. L'oscurantismo è quel periodo storico in cui i guardiani di paura della ragione imposti dal sistema sociale e dalle sue armi di terrore dominano. La descrizione delle parole impediscono l'arrivo nella descrizione di nuovi elementi e di nuovi fenomeni. Il secolo dei lumi o della ragione, sia quando gli esseri umani cominciano a rimuovere i guardiani paurosi ai confini della descrizione della ragione. Il Dio è il padrone dei cristiani e il suo seguito. L'orrore della ragione e dei suoi fantasmi. La sospensione del dialogo interno è il primo dei tre elementi fondanti, il bastone dello stregone. Infatti l'orrore vacui è questo, in realtà è la paura che viene immessa nelle persone del vuoto mentale. Cosa ti arriva quando sei nel vuoto mentale? Quali demoni si possono impossessare del tuo corpo? Quali spiriti sono là alla ricerca del tuo corpo? Come se il tuo corpo fosse una predata da impossessarsi. L'orrore vacui, la mente, il tuo corpo astrale che va fuori, il tuo corpo lo abbandona ed ecco le larve subito che se lo acchiappano, stuprano, si impossessano e tu sei... ed è la paura che viene immessa dai monoteisti di questo. In realtà quando arrivi al vuoto mentale, quando vai a costruire quello che è il blocco del dialogo interno, apri i canali dell'intuizione. Cioè apri i canali che dalla parte interna del cervello fluiscono verso la parte interna. E la sospensione del dialogo interno, cioè la sospensione del flusso delle parole, è un esercizio che si fa in poltrona, tranquilli, seduti, mentre ci si beve una birra, mentre si beve un bicchiere di vino, mentre si chiacchiera o mentre si sta zitti a praticare contemplazione, meditazione o altre cose. Ebbene, questo esercizio che ci sforza a fermare le parole, guardare senza descrivere, ascoltare senza descrivere, cioè usare i sensi senza metterci le parole che descrivono quanto i sensi percepiscono, è un esercizio fine a se stesso. Questo esercizio fine a se stesso però blocca il flusso delle parole. E la ragione impara un po' alla volta che le parole possono essere fermate. Cosa comporta questo, che le parole possono essere fermate? Nel Paganesimo Politeista l'elemento fondamentale, la cosa magica per eccellenza, è il fatto che noi viviamo profondamente e compiutamente la vita quotidiana, le nostre sfide della vita. La vita è intesa come una sfida, come un combattimento continuo. Come una trasformazione continua, come una manipolazione continua delle nostre emozioni. Ebbene, fermare il dialogo interno ci permette di far uscire l'intuizione dall'interno del nostro cervello, l'intuizione atavica, l'intuizione storica, l'intuizione di quella parte del cervello che normalmente noi non usiamo, e lo vedremo dopo anche su alcuni articoli che leggerò, quando noi ne abbiamo bisogno. In pratica, la ragione comprende che lei non è la padrona dell'individuo. L'individuo ha deciso, con un atto di volontà, di fermare il flusso delle parole nella propria testa. Usa i sensi, ma non descrive gli oggetti percepiti mediante parole. Guarda il colore, si fa penetrare dal colore, ma non si mette a descrivere il colore o la bellezza del colore. Ascolta i suoni, si fa penetrare dai suoni, ma non si mette a descrivere la qualità dei suoni. Per cui usa i sensi per percepire il mondo dell'individuo, ma blocca il flusso delle parole. Ebbene, in quel momento la ragione si accorge che lei non è padrona della persona. In quel momento la ragione si accorge che lei è una parte della persona, e che dentro a quella persona ci sono molte cose che lei non è in grado di comprendere. Quando l'individuo si trova a vivere per sfida, si trova a vivere i combattimenti della vita, le cose che per le sue emozioni sono importanti. Ebbene, per un attimo solo la ragione si ferma, e si ferma automaticamente per l'esercizio che avevamo fatto, bloccare il diritto interno. Bene, quando siamo sotto sfida la ragione si ferma un attimo e permette di far uscire l'intuizione. L'intuizione non agisce sulla ragione, sulla descrizione, ne agisce immediatamente sull'azione e porta l'individuo ad agire prima che la ragione pensi. Per cui, fermare il dialogo interno significa mettere l'individuo nelle condizioni di agire prima ancora di saper pensare perché deve agire o come deve agire. Praticamente è l'intuizione che emerge dalla parte più antica del cervello. E può emergere quando noi ne abbiamo bisogno solo perché noi avevamo fatto esercizi dicendo la ragione di metterti indietro, di tirarti indietro, sta zitta, tacci, ascolta, ascolta senza parlare, odora senza parlare, palpa senza parlare, ascolta le parole senza descriverle, sono solo suoni. Bene, solo perché abbiamo fatto quell'esercizio, noi siamo in grado di fermare la ragione quando ne abbiamo bisogno e far uscire l'intuizione. La sospensione di dialogo interno è il primo dei tre elementi fondamentali del bastone dello stragone. Il dialogo interno blocca l'uso di molte capacità cerebrali. Quando queste capacità vengono sbloccate, almeno in parte, col blocco del dialogo interno, noi diciamo comunemente che l'intuizione fluisce nell'azione senza dover essere giustificata e descritta mediante il dialogo interno, che la colloca nella ragione. La scienza sta scoprendo che la struttura cerebrale viene resa specializzata dall'ambito culturale nel quale viviamo. La sua specializzazione incide sulla sua struttura fisica. Le stesse nostre idee o le cose cui noi crediamo, altro non sono che il frutto della nostra struttura cerebrale. Una struttura cerebrale che abbiamo costruito giorno dopo giorno come effetto delle nostre attività e delle nostre scelte fisiche. Una struttura cerebrale che abbiamo specializzato con le nostre scelte, scelta dopo scelta. Riprendo dal giornale La Repubblica del 21 maggio 2003. Se la mente è uno specchio, era il titolo, ma forse la scoperta più entusiasmante è quella di un gruppo di ricercatori italiani guidati da rizzolati, che ha identificato nella corteccia cerebrale dei macachi, i mirror neuron, ossia i neuroni a specchio che si attivano quando si fa un'azione e quando si osserva qualcun altro fare un'azione simile, una sorta di meccanismo di risonanza. Tali neuroni sono presenti anche nell'uomo, ed utilizzando complessi meccanismi di registrazione, si è rilevato che mentre si osserva un'altra persona che sta eseguendo un certo movimento, nel cervello di chi osserva vengono attivati quei circuiti cerebrali che verrebbero coinvolti se si decidesse di ripetere la stessa azione. Tuttavia, nell'uomo questi neuroni potrebbero giocare un ruolo più complesso nella lettura e nella rappresentazione della mente degli altri. Si può entrare nella mente degli altri cercando di costruirsi una teoria che si basa su quanto possiamo capire degli altri da vari indizi, oppure mettendosi nei panni di un'altra persona, simulando dentro di noi desideri, preferenze e convinzioni. Ebbene, questo discorso dei neuroni a specchio era già conosciuta. In realtà, provate ad immaginare, quando noi ci immaginiamo nella nostra mente di ripetere dei gesti o di fare dei gesti, o ci immaginiamo di vivere in una certa situazione e ci viviamo in maniera emotivamente coinvolta, non facciamo altro che specializzare noi stessi. Faccio un esempio, se uno impara a scrivere a macchina, immediatamente cosa fa? Va alla ricerca delle singole parole, delle singole lettere, no? Poi a un certo punto quelle singole lettere, quelle singole parole gli si rappresentano nella testa e lui le immagina, le visualizza e si immagina di scrivere a macchina. Funzionano anche nel sogno una parte di questi, nel sogno normale, in pratica si attivano e ti fanno fare esattamente vivere le stesse situazioni che vivevi nella quotidianità. In pratica tu nel sogno, nell'immaginazione ti vedi scrivere a macchina, oppure ti vedi fare un'azione, oppure ti vedi a cercare delle cose specifiche per raggiungere un risultato. Non sono altro che questi neuroni che si attivano, però ogni volta che si attivano nella nostra immaginazione, attenzione, diventano sempre più forti. Cioè praticamente noi diventiamo sempre più abili nel comprendere i movimenti del mondo e riprodurre i movimenti del mondo, che possono essere in ambito lavorativo, che possono essere in ambito familiare, che possono essere in ambito tecnico, in ambito scolastico. Cioè praticamente quando noi impariamo non facciamo altro che aumentare la capacità di questi neuroni di riprodurre determinati gesti. Ed è questa scoperta praticamente non è altro che una rilevazione scientifica di quello che ha sempre saputo la stregoneria. Cioè in pratica ripassando nella mente certe azioni, certi gesti, rivivendoli ad occhi chiusi, riproducendo certe azioni che faccio, nella mente, non faccio altro che aumentare la mia capacità di fare quel gesto. Mi ha impressionato molto una volta vedere per esempio un saltatore con l'asta, credo fosse Vigneron a quei tempi, molto tempo fa, il quale prima di fare il salto con l'asta ricontinuava, rivedeva tutti i gesti che avrebbe fatto, tutta la corsa e tutti i movimenti che avrebbe fatto lui stesso sull'asta. Questo l'ho visto fare anche nei saltatori in lungo, nei saltatori in alto. Cioè in pratica rivedere tutta quella sequenza di movimenti che viene fatta. Questo rivedere, questo rivisualizzare se stessi nella sequenza di movimenti non fa altro che rinforzare e vivificare quella che è la struttura neuronale per quell'azione specifica e gli porta a fare quell'azione specifica in maniera ben più perfetta che se non la visualizzassero nella propria mente. Ebbene, tutte queste tecniche erano conosciute in stragonaria perché erano conosciute per la capacità dell'individuo di migliorare sempre se stesso e di migliorare le sue capacità e le sue prestazioni nella vita quotidiana. Pertanto il fatto che la scienza scopra questo, torno a ripetere, nella sospensione del dialogo interno e fare queste cose ti aumentano la capacità cerebrale di assorbire nuove cose dal mondo e ti aumenta la capacità tecnica, la capacità pratica di fare meglio ancora le cose. Vediamo un attimino dal Corriere della Sera. Io vi leggo questo articolo che è del 10 aprile del 1994, però vi ho già letto un articolo recentemente in cui questo era già superato, si trattava di diverse connessioni cerebrali e praticamente diceva che i sensi all'interno dell'uomo non sono 5 ma sono 21, questo mi sembra averlo letto la volta scorsa. Invece in questo articolo di domenica 10 aprile del 1994 del Corriere della Sera dice Per la mente uno squillo di tromba è rosso scarlato, sentono i colori suonare e vedono i suoni colorare l'aria. Se le pareti sono dipinte di giallo quella potrebbe diventare una stanza in re minore e un concerto jazz. Dall'assolo del trombettista potrebbe sollevarsi un'onda rosso scarlata. Per qualcuno poi un cioccolatino non saprà di nulla se non conterrà un giusto numero di rombi perché il gusto buono o cattivo dipende dalle forme geometriche che i sapori nascondono. È l'universo dei sinestetici, uomini e donne e soprattutto donne, che non conoscono barriere sensoriali. In loro le percezioni scivolano le une nelle altre, si sovrappongono e si fondano. Un universo che a lungo la scienza è ignorato in quanto immaginario, senza basi fisiologiche. Richard Citovich ha analizzato 60 soggetti sinestetici e afferma L'esperienza sinestetica, sostiene lo studioso, nasce da una diversa organizzazione del cervello, a origine di un sopravvento delle strutture sottocorticali, sede dell'emozione, dei processi attentivi, della memoria, su quelle corticali, sede del linguaggio e del ragionamento, cioè della ragione. Chiudo qui, non mi dilungo sull'intero articolo sulla ricerca. Ciò che mi interessa far comprendere è che il mondo ha questa forma perché noi siamo educazionalmente costretti a descriverlo in questo modo e che il dialogo interno è il peggior, è il reggitore di questo mondo in quanto lo rinnova costantemente dentro di noi. Se noi abbiamo sufficiente autodisciplina per bloccare qualche volta il dialogo interno e concentrare i nostri sensi sulle sensazioni che ci pervadono, correnti vegetative o sulle sensazioni che dagli oggetti del mondo ci giungono, noi attiviamo una diversa percezione del mondo perché siamo attrezzati per farlo. Bloccare il dialogo interno significa ritornare nell'essere natura. Indovinate come si fa a riconoscere una pianta medicinale da una pianta velenosa? Bene, dalle sue vibrazioni, dai suoi angoli, dai suoi colori e da cosa questo fa vibrare dentro di noi quando abbiamo la necessità di agire nei confronti di un malanno o di qualche necessità. Solo l'ossessione del dialogo interno ci rende incapaci di operare in quella direzione. L'uomo ha scoperto le piante medicinali perché le ha sperimentate. L'uomo non ha scoperto le piante medicinali perché le ha sperimentate, ma le ha sperimentate perché le ha viste proprio perché non aveva il dialogo interno. Per riscoprire le cose partendo dal dialogo interno è stato necessario sperimentare e calcolare. Cioè praticamente come è fatto l'uomo a sapere che quella pianta medicinale gli fa bene o non gli fa bene. Provate a mettervi nelle condizioni di un uomo o di una donna che hanno un mal di pancia o hanno dolori addominali. Non è che si può permettere in quel momento di pensare ho bisogno della pianta che mi fa bene, ma semplicemente sa che quella pianta gli fa bene. Perché? Perché esiste una capacità comunicativa fra noi e il mondo che ci sta attorno. Soltanto il dialogo interno, soltanto il sistema culturale che noi abbiamo, soltanto le coercizioni ci troncano questa relazione. Però gli uomini hanno sempre conosciuto che quella bacca è velenosa perché altrimenti sarebbero già morti quando erano pochi quando erano primitivi. E se si fossero messi a fare gli esperimenti per dire questa bacca sarà velenosa oppure no? Vediamo un po' cosa fa questa bacca. Beh, penso che sarebbero morti tutti o comunque non aveva nessun senso fare una cosa del genere. E poi pensare che gli uomini conoscono le erbe perché le hanno sperimentate è una visione monoteista, cioè è una visione cristiana. Perché è una visione cristiana? Perché pensare che l'uomo conosca le erbe o conosca le piante medicinali perché le ha sperimentate significa che l'uomo ha creato di magia somigliante di un dio pazzo cretino deficiente. Cioè un giorno un dio pazzo cretino deficiente, dal nulla fa l'uomo, stupido e ignorante cretino deficiente come lui e quest'uomo pazzo cretino deficiente deve andare alla ricerca di ciò che gli può far bene ai dolori lancinanti di pancia che ha. Per cui va a sperimentarsi le erbe, chissà perché poi gli viene in mente l'idea che le erbe gli possono far bene e va a cercarsi le erbe che gli può far passare il mal di pancia. Naturalmente si è già mangiato ammanita muscaria, si è già mangiato bella donna, si è già mangiato uva di volpe, si è già mangiato barba di capra e quello è già sottoterra da qualche giorno prima che gli faccia bene quello che ha trovato. Pertanto non è così che funziona la conoscenza dell'uomo, semplicemente l'uomo come tutti gli esseri della natura è legato l'uno all'altro, esistono vibrazioni ed esistono flussi emozionali che ci legano a tutto il mondo. Pertanto l'uomo sapeva in partenza che quell'erba gli avrebbe fatto bene per quella cosa ed è esattamente lo stesso tipo di conoscenza che ha il gatto. Perché il gatto può mangiarsi l'erba gatta quando ha dei problemi di rigurgito o ha problemi che sta male, perché sa che quella gli va bene, quella gli serve e nessuno gli ha insegnato che deve mangiare quell'erba, semplicemente sa perché la sua comunicazione, la sua parte profonda del cervello è legata a tutti gli oggetti del mondo. Chiaramente siccome non possiamo essere legati a tutti gli infiniti oggetti del mondo, la nostra cultura, la nostra crescita, le nostre scelte, selezionano una parte delle cose, selezionano una parte e ne cancellano altre. Quel giorno che avrebbe bisogno delle altre, questo uomo che ha cancellato quelle cose è indicappato, quell'uomo invece che non ha cancellato quelle cose ha dei vantaggi sull'altra. Dopo un giorno spiegheremo anche dell'evoluzione, visto che ormai tutti quanti se la prendono, i monoteisti se la prendono con l'evoluzione che sarebbe sbagliata, in realtà non è sbagliata l'evoluzione, in modo più assoluto e categorico. L'evoluzione è un dato assoluto e acquisito della conoscenza umana. Semmai si può discutere sui caratteri che hanno portato all'evoluzione, cioè sulle cose, sui fattori che spingono all'evoluzione, ma non sull'evoluzione, sull'evoluzione non si discute, non esiste un dio imbecille cretino che ha creato il mondo e non esiste un dio cretino imbecille che determinano i salti del mondo, per cui l'evoluzione è un dato di fatto, semmai si può discutere su cosa spinge e su cosa non spinge all'evoluzione. Però per far comprendere come esistono dentro di noi tutta una serie di altri elementi e di altri fattori e che solo il blocco del dialogo interno possono far emergere, per esempio, leggo un articolo da un vecchio Salute di Repubblica, dall'odore al piacere. Nel 1989 un gruppo di scienziati americani interessati al rapporto esistente fra gli ormoni ed il comportamento si imbatte a proposito della selezione sessuale nell'interazione fra odori e piacere. Guidati da Martha McClintock, professore di biologia dell'University of Chicago, coniarono il termine di Aromachology, nuova branca con il fine di ricercare scientificamente le relazioni esistenti fra la psicologia e la tecnologia della creazione dei profumi. Partendo dal semplice concetto che gli odori riescono a trasmettere una grande varietà di stimoli piacevoli al cervello, attraverso la stimolazione dei circuiti olfattivi, questo gruppo di ricerca ha dimostrato come il cosiddetto centro del piacere venga attivato anche da percezioni olfattive. A parlare è la Teresa Molnar, responsabile della relazioni esterne di Aromachology. Uno dei primi obiettivi degli scienziati era di smettere gli studi banali che basandosi su di una generica definizione di aromaterapia avevano coinvolto molte persone incredule in superficiali tecniche di rilassamento grazie al rapporto di incensi ed oli. I primi studi, prosegue Molnar, hanno permesso di identificare dei punti cruciali quali il modo attraverso cui gli esseri umani usano l'olfatto per comunicare i propri stati emotivi e gli effetti degli odori sulla performance fisica o ancora su quanto la capacità di discriminare gli odori si rifaccia allo stato cognitivo piuttosto che all'età cronologica e alla condizioni ormonali. Altre informazioni trovate da altre parti. Piccoli ma decisivi passi in avanti per studiare i particolari aspetti della funzione olfattiva quasi misconosciuta dell'uomo. E cosa ci dice praticamente questo articolo? Ci dice che tutta una serie di giudizi che noi ci facciamo sulle persone nascono dalla nostra capacità olfattiva, cioè dalla nostra capacità di percepire gli odori di quelle persone. Ma la nostra capacità olfattiva non entra nella descrizione. Cioè non è che quell'odore di quella persona o di quello che io percepisco mi faccia schifo o non mi faccia schifo, mi piaccia o non mi piaccia. Semplicemente entra in assonanza con me o non entra in assonanza con me. Mi entra in assonanza per certi aspetti e non mi entra in assonanza per altri. In realtà dagli odori esiste tutto un linguaggio ed è un linguaggio estremamente complesso di rappresentazione dei soggetti all'interno del mondo. Perché si dice che il cane sente l'odore della paura? Perché tutti i nostri stati emotivi si trasferiscono anche in effetti chimici, in segnali olfattivi. Naturalmente c'è la capacità di percepire questo e noi questo comunque lo percepiamo e lo viviamo in maniera subcosciente se vogliamo. Perché? Perché la ragione, perché il flusso delle parole ci blocca la nostra capacità di reagire immediatamente ai fenomeni che percepiamo. Per esempio una persona che ci vuole ingannare ha un odore, ha delle sensazioni aromatiche che noi percepiamo e si può mettere tutti i profumi che vuole sopra. Però ha queste cose. Semplicemente noi non riusciamo a distinguere, non abbiamo la cultura all'interno della ragione per sapere ciò che sta facendo quella persona. Però se noi analizziamo le nostre sensazioni nel profondo bloccando il dialogo interno ci accorgiamo di riuscire a percepire certe sensazioni che dentro di noi emergono rispetto a quella persona, rispetto alle sue azioni, rispetto ai suoi gesti. E questo vale un po' in tutto il mondo, cioè per tutti gli oggetti del mondo, per tutti gli animali, per tutte le piante. Noi abbiamo dentro di noi delle capacità immense di percepire le cose. Semplicemente quelle capacità vengono selezionate nel corso della crescita, nelle nostre scelte, nelle nostre esigenze, i nostri bisogni. Per cui la nostra capacità che sarebbe a ventaglio ampio appena nati, di fatto viene restretta in base alle esigenze culturali, alle esigenze di vita, alle necessità di rispondere agli stimoli esterni e alla quantità di stimoli esterni che noi possiamo percepire senza mettere in crisi la nostra capacità di vita. Perché ricordiamoci che se noi percepissimo tutto quello che dal mondo viene espresso non capiamo più niente, cioè effettivamente viviamo nel caos dell'esistenza. Perché sarebbe una cosa talmente complessa l'immensità dei segnali che giungono dal mondo verso di noi che noi andremo fuori di testa. Semplicemente la nostra ragione, ma anche la nostra capacità percettiva restringe quei segnali ad un numero accettabile. Però noi possiamo sia ampliare la quantità di segnali che sono percepiti, sia selezionare in maniera diversa, ma soprattutto possiamo usare l'autodisciplina sull'attenzione proprio per spostare il piano di percezione dei vari segnali. Possiamo lavorare in astratto e possiamo spostarsi da un piano all'altro e percepire i fenomeni in maniera diversa e giocarsi in maniera diversa. Ma questo appartiene alla stragoneria. Questo appartiene proprio a chi ha fermato il dialogo interno e percepisce e assorbe il mondo in maniera diversa. Però ricordatevi sempre che non esiste una percezione gratuita, una percezione ad immagine. Cioè non è che io ho selezionato questo modo che ho oggi di guardare il mondo comunemente perché lo ha creato il Dio padrone. Ma ho selezionato questo modo di guardare il mondo perché questo modo era quello che mi serviva. Era quel modo con cui io mi rapportavo con mia madre, mi rapportavo quando ero in pancia di mia madre, ho selezionato i fenomeni, quando sono cresciuto ho ristretto, ho dilatato, ho percepito, ho fatto le mie battaglie, le ho perse, ho avuto le risposte del mondo e via via scelta dopo scelta ho selezionato anche quello che è la mia capacità di percepire e vedere il mondo. Pertanto anche quello che è la dilatazione della mia capacità di vedere il mondo va selezionata e serve molta autodisciplina. Perché? Perché man mano che si amplia la nostra capacità di percepire i fenomeni del mondo bisogna anche saperla controllare, se non bisogna andare fuori di testa chiaramente. Vediamo un altro piccolo articolo ancora abbastanza vecchiotto, tutto sommato. È del 14 aprile 2004, sempre a proposito e legato al discorso di fermare il dialogo interno per permettere all'intuizione di uscire. È della Repubblica, 14 aprile 2004, ed è un'altra ricerca, USA. Scienziati individuano la zona del cervello e i meccanismi nervosi che regolano l'intuizione. Il lampo di genio scoperta all'origine. Il lampo di genio esiste ed ora è stato localizzato l'area in cui si accende la famosa lampadina, quella che ha portato alcuni grandi della scienza a importanti invenzioni e tutti noi a risolvere grattacapi impossibili. La lampadina si trova nel lobo temporale destro, svelato sulla rivista Bloss Biology, Max Jung Beeman ed Edward Bowden delle Northwest University di Chicago e John Cognos della Drexel University, dove senza che noi ce ne rendiamo conto, le informazioni a disposizione per risolvere un certo dilemma sono rielaborate in modo nuovo e la nostra confusione prende forma. Secondo i scienziati la scoperta è importante, non solo perché aiuta a collocare i centri nervosi dell'intuizione, ma anche perché la natura di quest'area potrebbe essere la base delle differenze individuali dell'intuito. La scoperta delle basi neuronali dell'intuizione deriva da esperimenti condotti su un gruppo di persone. I partecipanti dovevano risolvere dei dispettosi giochi di parole creati ad occhio per risvegliare il loro intuito. Nel frattempo i scienziati misuravano la loro attività cerebrale con la risonanza magnetica funzionale e in un secondo tempo con un encefalogramma per vedere a che tipo di onde elettriche corrispondesse l'uso dell'intuito. Per tanto tempo si è detto che l'intuizione è qualcosa di diverso da risolvere linearmente un problema, ha commentato Bergman. Noi crediamo che questa sia la prima ricerca che mostre differenze nei meccanismi neuronali che conducono a scoperte decisive. In pratica quello che è il lavoro scientifico e il lavoro di scienza non fa altro che confermare tutto quello che già si sapeva in stragoneria. Il problema che a noi adesso ci interessa dal punto di vista della stragoneria andare ad analizzare è, primo, qual era la situazione in cui queste persone hanno sviluppato la loro intuizione? Cioè quando sono stati messi davanti a dei problemi che per risolverli era necessario intuire e non sviluppare matematicamente un processo o un processo logico. Cioè praticamente l'intuizione emergeva nelle persone quando le persone avevano bisogno di risolvere un problema, quando erano in una situazione di sfida. Cioè in pratica l'intuizione emerge nell'individuo quando l'individuo ha necessità dell'intuizione, altrimenti l'intuizione non emerge. Tanto più veloce l'intuizione emerge quanto più velocemente la ragione, il dialogo interno, il flusso delle parole si ferma. Tanto più velocemente il dialogo delle parole si ferma dentro l'individuo e tanto più velocemente l'intuizione emerge. In pratica è come se il dialogo interno bloccasse la capacità neuronale, la capacità delle cellule dell'intuizione di riorganizzarsi per far uscire il dato intuitivo. Se si ferma il dialogo delle parole la velocità di riorganizzazione delle cellule neuronali aumenta e l'intuizione è più veloce. Naturalmente se è una situazione in cui devo risolvere degli enigmi cartacei non ho nessun problema che l'intuizione mi esca in 3 secondi o in 30 secondi o in un minuto. Ma se è una questione di vita o di morte dove ogni gesto è fondamentale, ho bisogno che l'intuizione meno di un centesimo di secondo emerga. Se sono addestrato a fermare il dialogo interno questo avviene. Se non mi sono addestrato a fermare il dialogo interno questo non avviene. Pertanto quando io parlo del crogiolo dello stragone e degli elementi legati al crogiolo dello stragone come questo per esempio della sospensione del dialogo interno dovete sempre tenere presente il senso della stregoneria, il senso del paganesimo che è la vita quotidiana, è il vivere per sfida, è il trasformare se stessi, è la propria capacità di manifestare la propria struttura emozionale che avviene sia nel bambino sia nel vecchio di 90 anni perché il vecchio di 90 anni che non ferma il dialogo interno, che non usa la sua intuizione, che non vive per sfida, beh è già un morto che cammina. Tanto per essere chiari, un bambino i cui genitori non insegnano a vivere per sfida, ad attrezzarsi per vivere meglio, ad afferrare tutto ciò che avviene nel mondo, ad attrezzarsi per essere efficiente rispetto ai problemi che arrivano, bene quel bambino è già morto. Infatti se voi ricordate e trasmissione del paganesimo, vi ho detto che nel paganesimo non esiste in realtà il concetto di morte, esiste soltanto il concetto di nascita. Non muore il feto, ma nasce un bambino, non muore il bambino, il giovane, nasce l'individuo adulto, non muore l'individuo adulto, ma nasce il suo corpo luminoso. Ebbene, se l'intuizione non arriva, se le persone non si attrezzano per costruirsi, se le persone non crescono di continuo e il loro concetto di espansione, il loro concetto di divenire, il loro concetto di trasformazione non è una costante della loro esistenza, allora cessa il concetto e cessa la crescita. E allora sì, in quel momento la morte del corpo fisico coincide con la morte del corpo luminoso, questo con la morte del corpo fisico, ma ci sono anche molti bambini, molti feti che non diventano bambini, ci sono molti ragazzi che non diventano mai adulti o non saranno mai adulti. Cioè esiste sempre una morte, anche se spesso non si trasforma nelle cellule, non è morte del corpo fisico, ma è la morte della capacità di espansione di un individuo. D'altronde a Hera, all'essere natura non gli ne frega niente, cioè lei ti dà la possibilità, dà la possibilità ad ogni soggetto di costruire il Dio che cresce dentro, ma è una possibilità che dà. Il fatto che il fanciullo non venga addestrato dai suoi genitori, non venga attrezzato, non gli si diano gli strumenti per affrontare la vita e questo non diventerà mai adulto, all'essere natura non gli ne frega niente. Cioè intanto le cellule comunque crescono, le cellule si riproducono, la flora batterica nel suo stomaco c'è. L'essere natura è estremamente complesso come capacità di percepire e di vedere il mondo. Hera è una grande divinità, è una delle più grandi, era dalle bianche braccia, è una delle più grandi divinità del panteon pagano antico ed è una grande madre, ma come tutte le grandi madri non favoriscono un figlio rispetto ad un altro, lei dà le possibilità ai suoi figli, ma sono i suoi figli che devono saper afferrare le possibilità che lei dà, perché se i suoi figli non sono in grado di afferrare le possibilità che lei dà e lei mica deve ammazzarsi per loro. Sono i loro figli, i suoi figli che hanno deciso di suicidarsi. Pertanto tutti coloro che mettono in ginocchio i loro figli a pregare, in realtà non stanno facendo altro che uccidere quei bambini, perché li privano quei bambini della capacità di afferrare i fenomeni del mondo e di essere attrezzati per tutto ciò che avverrà. Da tronde, come sapete, intelligenti si diventa, non è che si nasce, non è un dono del Dio padrone, ma lo si costruisce giorno dopo giorno nella nostra attività. Bene, io con questa trasmissione chiudo il discorso sul dialogo interno. Per ora, del Cologio dello Stragone, abbiamo fatto intanto il dibattito generale sulla stregonaria, cioè il viver per sfida ai mondi della stregonaria. Poi abbiamo fatto le determinazioni che rappresentano l'individuo nella vita. Abbiamo fatto la volontà che rappresenta il modo dell'individuo di affrontare la sua vita, cioè di percepire la vita, di che cos'è il mondo, il mondo d'azione rispetto al mondo della descrizione e della ragione. Abbiamo finito adesso sospensione del dialogo interno e da quando comincerò, tornerò da anversa, comincerò a parlare della meditazione. Pertanto, parleremo della meditazione dal punto di vista del paganesimo politeista e della stregonaria. Attenzione, che è una cosa specifica, non è la meditazione dei buddhisti, non è la meditazione di chi fa yoga, non è altri tipi di meditazione. La meditazione del paganesimo politeista e della stregonaria è la meditazione del paganesimo politeista e della stregonaria, sono cose diverse. Bene, io ho qualche notizio alla stampa, anche se non ho fatto la segna stampa, ma ho delle notizie comunque. Dovi dire le telefonate, se qualcuno vuole telefonare 049 700 700 e 049 700 838. Vi ricordo che fra poco c'è il referendum sulla fecondazione assistita, naturalmente invito tutti a ottemperare al dovere di andare a votare e invito tutti ad essere attenti perché quando si distrugge il mondo, il mondo distrutto, non si può più salvare. Niente, se volete che parliamo ancora qualcosina sull'intuito, io ho qui la notizia della Repubblica del 31 dicembre 2004, mi ricordo di avervela data questa notizia. Si rilanca, solo carcasse di cani e gatti, foreste sommerse, ma nessuna vittima tra elefanti e tigri, tutti salvi gli animali selvatici, fuggiti grazie al sesto senso. Avrebbero la capacità di percepire le calamità. Però, dice l'articolista, non ci sono prove scientifiche, è un dato di fatto. In pratica, c'è quella forza, che vi ho detto prima, dentro di noi, che ci lega a tutti gli oggetti della vita, a tutti gli oggetti del mondo. Ed è quella forza, ed è quell'intuizione, quella relazione emozionale che ci permette di capire quando una cosa va bene, non va bene, quando ci può favorire o non ci può favorire, quando ci è utile, da quando non ci è utile. E lo sappiamo perché siamo legati a quella cosa. È solo la ragione che ci separa da quella cosa o da quell'elemento. Menti elastiche, anche questo. Il cervello muta in base alle attività svolte. Ormai ve l'ho già detto, ma resterà sempre un elemento fondamentale perché questa ricerca, che in pratica viene pubblicata dalla Salute di Repubblica dell'11 settembre 2003, è comunque uno studio fondamentale che va a provare l'esistenza scientifica del crocello dello stregone. in pratica il fatto che il cervello che noi abbiamo in realtà è estremamente plastico, cioè praticamente la nostra attività, le nostre scelte, la nostra volontà, le nostre direzioni nelle quali noi agiamo, non facciamo altro che rendere diversa la nostra struttura cerebrale. Pronto? Ciao! A niente, volevo dare un saluto, volevo dare un saluto e un buon viaggio, un buon... Grazie. 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 Tanti auguri, chissà che sia tutto positivo, come penso, insomma, ecco... Eh, beh, ma deve essere positivo. E' logico, a me non dico niente perché ho scoperto l'ammissione e naturalmente tu sei che... Sono d'accordo, naturalmente... Certo. Ho telefonato, ho parlato, un saluto e... Va bene. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, auguri. E in effetti il viaggio di Anversa sta un pochino focalizzando quello che stiamo facendo. Molte cose che avrei dovuto fare non le ho fatte, ne ho fatte altre, poche altre, poi magari c'è anche la stanchezza del lavoro, ci sono tutta una serie di cose che vengono a sovrapporsi in continuazione, per cui ormai, non dico che siamo pronti, ma siamo quasi pronti per andare, per partire. E la cosa più interessante è che ci saranno gruppi da tutta Europa, cioè arriveranno gruppi dalla Lituania, dalla Letonia, dall'Estonia, dall'Ucraina, dalla Russia, dalla Germania, dalla Polonia, dalla Grecia, dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo, dall'Inghilterra, dalla Germania, pertanto dalla Danimarca, dalla Svezia sono previsti anche, cioè praticamente dall'Australia e dall'India, questi anche dall'Inghilterra pure, cioè arriveranno praticamente tutta una serie di personaggi, tutta una serie di situazioni nazionali, le quali hanno ben presente quello che è il paganesimo, di quello che è la struttura pagana, di quello che è la percezione del mondo che ci sta attorno. E tutto sommato è una grossa occasione, una grande occasione che troviamo e che intendiamo sviluppare proprio non solo tanto per i contatti internazionali che hanno il peso che trovano perché tutto sommato sono relativi, nel senso che ogni nazione, ogni gruppo ha i suoi problemi, ha le sue attività, le sue specificità, il suo modo di affrontare le cose, ma è la costruzione di questo legame, di questo legame che avviene attraverso le persone, che ti fa sentire le stesse lingue, ti fa sentire gli stessi linguaggi, non si è diversi ma in realtà si è uguali e si sente come dappertutto che ci siano necessità simili, ci siano gli stessi bisogni e ci sia la stessa capacità, la stessa tensione di percepire il mondo. E in effetti lega moltissimo questo congresso. Io ho avuto la sperimentazione l'anno scorso ad Atene e in realtà quello che abbiamo scoperto in maniera incredibile era che i greci per esempio erano uguali a noi, cioè avevano la stessa visione della vita, la stessa visione del mondo che abbiamo noi. Altre persone, francesi e tedeschi, avevano la stessa visione della vita, i stessi fiamminghi che organizzano ad Anversa e avevano la stessa identica visione della vita. Fatalità con i greci ammighi è il primo giorno che ci siamo trovati e abbiamo fatto anche un bellissimo brindisi a base di piccolit grazie all'amico Ferdinando che ne aveva portato. Cioè praticamente si sta creando quella rete di conoscenze, di conoscenze personali fra le persone in Europa che stanno tentando di costruire la visione del paganesimo, della vitalità del mondo in cui viviamo e va a costruire anche quella struttura ideale, quella struttura che manca ormai alla società nella quale viviamo. Noi viviamo in un sistema sociale che sembra che abbia perso l'utopia, cioè abbia perso il sogno, abbia perso quelle tensioni di trasformazione che avevano attraversato per esempio negli anni sessanta, settanta, magari a livello politico, però oggi mancano le tensioni emotive delle persone, cioè i bisogni di affrontare il futuro, vedere un futuro in maniera diversa, di progettarlo, di avere dei bisogni e dei desideri da presentare alla società, proprio per portare la società stessa a trasformarsi. Oggi, sì vabbè, ci sono le battaglie politiche, ma ormai sinceramente non si distingue molto fra Estrema Destra, Alleanza Nazionale, Rifondazione Comunista, DS, UDC, sono esattamente la stessa cosa. Esiste sì delle differenze fra i singoli partiti, però sono più legati a gestire le istituzioni, cioè il ruolo che hanno all'interno di istituzioni dando una direzione piuttosto che un'altra, ma alla fin fine non è che cambia molto. Noi abbiamo avuto un fini di Alleanza Nazionale che ha partecipato a formare la Costituzione Europea. Abbiamo avuto uno di Alleanza Nazionale che ha fatto una Costituzione che è fra le più avanzate che esiste nel mondo. Chiaramente so benissimo che c'erano altre forze che lo facevano, ma per far capire questo, che la differenza politica fra l'una e l'altra è più che altro di gestione fra le persone, però non esiste una differenza ideale, una differenza utopica, una differenza che porti le persone a trasformarsi nella vita. E manca questo, manca questa idealità e proprio perché manca questa idealità, sembra che la struttura sociale si stia un po' svuotando. E questo è necessario il paganesimo. Il paganesimo è necessario anche perché possa dare alla società quella forza di rinnovarsi, che poi non dice dove vai a rinnovarti, ma svegliare le persone. Cioè alzati e cammina, cioè svegliati, cominci a prenderti nelle tue mani la responsabilità della vita. C'è un futuro, devi dilatarti, devi costruirti, devi trasformarti. La società stessa in cui viviamo ha bisogno di queste trasformazioni, ha bisogno di questo dinamismo che sembra oggi chiudersi su se stesso, quasi che perdere quello che sono le forze della vita e stanno vincendo le forze della morte. Per cui c'è necessità anche della rinascita del paganesimo. Bene, io qui chiudo la trasmissione del magico. Ricordo sempre una cosa, che tutte le trasformazioni storiche e sociali, tutte le trasformazioni epocali hanno sempre preso dalle antiche società e dalle antiche religioni. Questo è sempre avvenuto. Chiudo qui la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. Io vi do appuntamento fra quindici giorni. Spero di poter collegarmi telefonicamente giovedì, ma non assicuro nulla però. Vi racconterò cosa è successo ad Anversa, cosa è nato e cosa sarà il futuro. Ciao!